Benvenuti al TG6 dell'Aquila. Apriamo oggi parlando di Gran Sasso, neve e tanti punti interrogativi. Nonostante la prima nevicata sul Gran Sasso e l'annuncio dell'apertura degli impianti per l'8 dicembre, sono ancora molti in realtà i punti interrogativi sull'apertura della prossima stagione sciistica. Ci fa il punto della situazione Giorgio Alessandri nel prossimo servizio. Con la prima nevicata che finalmente ha imbiancato le cime del Gran Sasso e quelle abbondanti annunciate per i prossimi giorni, iniziano a stringersi i tempi per l'avvio della stagione sciistica. Mentre il sindaco Cialente annuncia l'apertura degli impianti per l'8 dicembre, giorno che canonicamente segna l'avvio della stagione nelle principali stazioni invernali, restano ancora diversi i punti interrogativi. Il primo è quello relativo alla gestione dello storico hotel e del bar annesso, oltre a quello del rifugio sulle piste. Stando a quanto appreso, sarebbero due le società che avrebbero risposto al bando con cui Comune e Centro Turistico del Gran Sasso intendono affidare le strutture fino al prossimo giugno. Pur ammettendo che l'affidamento avvenga in tempi record, è tutto da chiarire, come il nuovo gestore possa insediarsi, ripulire le strutture che oltre alla perdurante fatiscienza sono in stato di abbandono da mesi, rifornirsi di gasolio e provviste per l'inverno. Per il sindaco, almeno per il gasolio, non c'è problema, visto che sarebbe stato trasportato nei giorni scorsi, mentre il presidente della scuola sci si dice preoccupato dal momento che, con questa incertezza, non è stato possibile programmare nulla per la stagione ormai alle porte, così come sono pari a zero le prenotazioni per l'8 dicembre. Per le due soggiovie nei giorni scorsi sono stati stanziati oltre 100.000 euro, destinati alla manutenzione e dal collaudo degli impianti. E almeno da quel punto di vista, gli amanti della neve sperano che non ci siano intoppi, anche se, aggiungiamo noi, c'è da curarsi che vengono garantiti anche i servizi. Andare sulle piste senza potersi fermare per un caffè o una semplice sosta per bisogni fisiologici non è pensabile. Nessuna novità, infine, per l'avviso esplorativo per la privatizzazione del bacino sciistico. L'ennesimo punto interrogativo sul futuro di un comprensorio da anni in cerca di sviluppo e di scatto. Parliamo ora di Accorfenix, fatta per l'insediamento al bando del Comune dell'Aquila, risposto la sola Accorfenix, con una proposta da quasi 2 milioni di euro. 1,7 per l'esattezza, la società che si occupa di riciclo di apparecchiature elettroniche darà lavoro a 130 persone. Sentite. Tutto pronto per l'insediamento della società Accorfenix nello stabilimento di Campo di Pile dell'Aquila, che per anni ha ospitato il polo elettronico Fiore all'occhiello dell'Aquila negli anni del boom economico. All'avviso pubblicato dal Comune dell'Aquila, infatti, ha risposto la sola Accorfenix, con un'offerta da quasi 2 milioni di euro. La società ora dunque potrà insediarsi nello stabilimento aquilano. Già dal 2014 in realtà avrebbe dovuto iniziare la sua attività. L'Accorfenix è una società che si occupa del riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenti ha parlato di un grande investimento per la città. Il capannone viene venduto a prezzo di costo, proprio per spingere questa azienda ad insediarsi e arrestare. La vendita del resto è stata imposta dal finanziamento di Invitalia e dunque non si poteva procedere con un semplice affidamento. In realtà, il Ministero dello Sviluppo ha già pronto anche l'avviso per affidare lo stabilimento ex FIMEC. Tutto dunque tornerà a nuova vita lì, dopo anni di parole, chiusure e perdita di poste di lavoro. E a proposito di poste di lavoro, ci saranno 128 assunzioni, tra questi molti ex lavoratori del polo elettronico. Un giro importante per l'economia aquilana, piegata dal terremoto e dalla crisi. Accorfenix arriva, ma deve restare. Unico paletto, ma vincolante, il fatto che debba tener fede agli impegni presi per almeno dieci anni, altrimenti, secondo gli accordi stabiliti, lo stabilimento tornerà nelle mani del Comune dell'Aquila. E ora la cronaca. Un incidente ha provocato un rallentamento nel traffico questa mattina a Bazzano sulla Statale 17. Un maxitamponamento, in realtà, che ha coinvolto ben quattro vetture. Diversi i danni ripostati dagli automobili, ma fortunatamente nessun danno per i conducenti e gli occupanti delle vetture. Sono dovuti intervenire però mezzi dell'ANAS per la rimozione dei veicoli, e la polizia municipale per tutti i rilievi del caso e anche per chiarire meglio la dinamica dell'incidente. Ora parliamo di evasione fiscale. Un protocollo d'intesa per contrastarla. Il Comune dell'Aquila aderisce al protocollo d'intesa con Guardia di Finanza, Anci e Agenzia delle Entrate. Un protocollo che, se fatto funzionare bene, porterà sicuramente dei benefici nelle casse comunali stesse. Il servizio. Contro l'evasione fiscale, il Comune dell'Aquila aderisce al protocollo dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Anci. Si tratta di un protocollo per lo sviluppo della partecipazione dei comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali. Con l'adesione del capoluogo di regione, sono ad oggi 31 i municipi abruzzesi che hanno aderito all'accordo di collaborazione che prevede, in caso di buon esito delle segnalazioni da loro fornite a fini dell'accertamento, il riconoscimento agli stessi di una quota pari al 55% dei tributi statali, sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo. La riduzione, sempre più incisiva dei trasferimenti dello Stato e delle Regioni, dichiara il Sindaco Cialente, impone ai comuni di fare conti con la capacità di governo del proprio territorio fiscale. È nel proprio territorio, infatti, che vanno recuperate le risorse necessarie per offrire da un lato servizi più efficienti e ridurre dall'altro la pressione dei tributi locali. E uno dei principali strumenti per farlo è proprio il recupero dell'evasione. Il tratto fondamentale di una lotta all'evasione così organizzata è che i vantaggi che ne derivano ricadono direttamente nelle tasche dei cittadini aquilani, che con il recupero delle somme e vase possono beneficiare di riduzione delle aliquote dei tributi locali o di ammodernamenti di infrastrutture, manutenzione di strade o giardini pubblici e altri servizi ancora. L'occhio vigile dei comuni, dichiara il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Federico Monaco, consentirà di effettuare indagini in grado di scovare fenomeni evasivi alcune volte non facilmente individuabili dalle strutture dell'Agenzia, sfruttando il maggiore vantaggio derivante dalla diretta conoscenza del territorio. Non si tratta di fare la spia, ma di captare e segnalare alle entrate o alla Guardia di Finanza elementi sintomatici e inizi significativi di infedeltà fiscale, collaborando così facendo al raggiungimento di una maggiore equità sociale, il tutto con vantaggi per le casse delle amministrazioni comunali. Il fenomeno dei minori non accompagnati che arrivano in Italia con le migrazioni non può essere trattato come un'emergenza. Occorre una pianificazione e un'organizzazione sistematica di questi bambini e adolescenti. Lo afferma la senatrice aquilana del Movimento a 5 Stelle, Ensa Blundo, che aggiunge abbiamo chiesto di ottenuto dal Governo in materia di protezione internazionale l'impegno a promuovere e di incentivare modalità di affido familiare, laddove non sia possibile il ricongiungimento familiare. La cronaca ci porta ora ad Avezzano. Vasta operazione del Corpo Forestale dello Stato e delle guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sul delega della Procura di Avezzano. Durante l'operazione, che ha visto l'impiego di 26 forestali, coordinati dal vicequestore dottoressa Tiziana Altea e 29 guardie parco, coordinati dal responsabile del Servizio Sorveglianza del Parco, Renato Di Cola, sono stati passati al setaccio una decina di siti di aziende zootecniche a Villa Vallelonga, Trasacco, Isola Liri, Gioia dei Marzi, Bisegna, Pescina, Avezzano e altre città. L'attività ha portato, oltre all'individuazione del macello clandestino, al sequestro di bovini non identificabili in quanto privi di marchi auricolari, di farmaci e materiali ad uso veterinario non conservati in modo idoneo, di circa 100 kg di carne per mancata tracciabilità. Questo operato dal nucleo agroalimentare del comando forestale dell'Aquila, in un noto esercizio di ristorazione di pescina collegato poi ad uno degli indagati, perché ovviamente questa operazione ha portato a denunce e indagati. Sono stati elevati al ristorante e sanzioni amministrative e scoperti anche casi di detenzione degli animali in condizioni assolutamente riprovevoli. Restiamo ad Avezzano per parlare del terremoto di Avezzano, un convegno per ricordare. Avezzano ha ricordato il terremoto del 1915, con un convegno che si è svolto a Palazzo Torlogna e che ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole, di giovani generazioni dunque, per far sì che il terremoto di Avezzano non venga dimenticato. Giorgio Alessandri. A quasi 100 anni da quella tragedia, si è svolto nei giorni scorsi un convegno per commemorare il terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915 e l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio dello stesso mese. Un incontro che si è svolto nella splendida cornice di Palazzo Torlogna, ad Avezzano, al quale hanno partecipato molti studenti provenienti da alcune scuole di Avezzano, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti del comitato dell'istituzione del centenario del terremoto, l'ambasciatrice della Romania, Dana Costantinescu, l'ammiraglio Romano Sauro e il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. È un modo, ha dichiarato il sindaco di Avezzano, per ripercorrere la storia dei nostri antenati, che hanno affrontato a testa alta i giorni successivi al terremoto del 15 e per questo, ha concluso Di Pangrazio, rivolgendosi ai giovani, è fondamentale la vostra presenza perché vuosi del futuro di questa terra ed è doveroso che conosciate la storia. Il convegno è stata un'occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia tra il popolo italiano ed il popolo rumeno attraverso il ricordo degli oltre 3.000 prigionieri rumeni detenuti ad Avezzano tra il 1916 e il 1919 nel corso della Grande Guerra. Ora apriamo la pagina dedicata allo sport partendo dalla serie di Amiternina e Chieti si spartiscono il bottino è finita 2 a 2 la gara un finale che lascia con la mano in bocca soprattutto i giallorossi dell'Amiternina che hanno tenuto di più il pallino del gioco. Daniela Fasanella Una Amiternina tutto cuori grinta impatta 2 a 2 contro il Chieti probabilmente la giovane formazione scoppitana di mister Angelone meritava qualcosa di più del pareggio i padroni di casa hanno cercato in tutti i modi di riscattare la sconfitta subita in casa della Jesina nel turno precedente mentre il Chieti è sembrato impacciato e molto lezioso. Per la cronaca la Amiternina trova subito la via della rete al terzo minuto Petrone ruba palla a massimo avanza ed ai 25 metri trafiggia in diagonale il portiere di Uff all'ottavo è ancora la Amiternina che si rende pericolosa Domenico di Alessandro soffia la spera di Oppo ma il suo destro in diagonale sfiora l'incrocio all'undicesimo il Chieti pareggia grazie a Di Nardo che serve in profondità per Varone incertezza difensiva degli Aquilani e diagonale rasoterra che finisce lentamente in rete al 25esimo la Amiternina potrebbe raddoppiare con il colpo di testa di Torbidone ma è bravo a respingere il portiere Neroverde nella ripresa il Chieti torna in campo con un altro piglio e così al secondo minuto già pericoloso cross in area di Del Grosso Varone calciallato la Amiternina però al 14esimo mette in ansia la retroguardia ospite slalom di Marco Tullio sulla destra palla rasoterra a centro area ma De Mattei se non trova la sfera il Chieti raddoppia il 22esimo traversone di Di Nardo dopo la respinta di Schina sul tiro di Varone per il colpo di testa vincente di Dos Santos la Amiternina non si dà per vinta e al 36esimo conquista un rigore per il fallo di mano di Sbardella sul cross di Schiphol dal dischetto va Torbidone il portiere respinge sulla testa di De Matteis che segna infine al 38esimo miracolo di Diuffo su conclusione di D'Alessandris non è la prima volta che ci capita di non raccogliere quanto costruiamo in campo e la cosa si fa preoccupante perché poi disputare queste prestazioni creare tanto occasioni da gol e non raccogliere i tre punti c'è forte rammarico e anche un po' di sconforto alla fine ecco dobbiamo essere più bravi soprattutto a non concedere questi gol che spesso hanno del ridicolo sinceramente quindi dobbiamo essere più bravi a non concedere questi gol e a sfruttare di più l'occasione che ci capitano però anche oggi è una grossa prestazione niente da rimproverare ai ragazzi se non quelle piccole disattenzioni dove abbiamo preso appunto i gol di cui parlavo prima contro un'ottima squadra e tenere alle corde tutto il secondo tempo il Chiedi nella loro metà campo vuol dire che abbiamo fatto veramente bene la Miterlina ha fatto la sua partita sapevamo che qua era un campo difficile che correvano tantissimo che ci aggredivano tantissimo tant'è vero su una palla recuperata hanno trovato il gol del 1 a 0 siamo stati bravi a trovare il pareggio siamo stati bravi a trovare il gol del 2 a 1 la partita si era messa come volevano noi dovevamo solamente in quel caso gestire palla far venire la Miterlina e ripartire negli spazi era semplice quello che dovevamo fare perché siamo in grado di poterlo fare stranamente ci siamo fermati abbiamo smesso di giocare ci siamo tirati indietro abbiamo concesso troppo campo alla Miterlina che ha cominciato a tirare calcio d'angoli mische dentro l'area e questo è un dato di fatto molto negativo non solo prendiamo il rigore che il portiere para sulla ribattuta arriva un difensore un centrocampista non so chi era un giocatore loro che era praticamente fuori dall'area e noi eravamo tutti a dormire perché sulla ribattuta del portiere dobbiamo arrivare noi prima di loro invece siamo arrivati secondi abbiamo preso gol e poi potevamo addirittura prendere gol del 3 a 2 quindi noi ci siamo complicati la vita da soli oggi dal calcio al rugby per Gran Sasso e l'Aquila un weekend positivo nella prima di ritorno del girone di Serie A la Gran Sasso Rugby parte con il piede giusto e supera per 27 a 5 il Cusperugia per l'Aquila Rugby invece sconfitta a parte arriva al primo punto di questa stagione travagliata e difficile nel trofeo di eccellenza ci dice tutto Giorgio Alessandri weekend positivo per la pallavala Aquilana in Serie A la Gran Sasso Rugby inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno superando 27 a 5 il Cusperugia dopo tre sconfitte consecutive 5 punti del bottino compreso quello di Bonus che consentono a Gelo Rossi di Colce Rutilio di guardare con maggiore fiducia ai prossimi match contro gli Umbri la partita è stata senza storia con la Gran Sasso che ha chiuso il primo tempo sul 13 a 0 grazie alle mete di Giampietri e Caione stesso copione nella ripresa con altre due mete trasformate da pallotta e messe a segno dall'ex neroverde dell'Aquila Lofrese e proprio l'Aquila Rugby ha centrato il primo punto stagionale nella gara interna dei fattori contro la Lazio valevole per il secondo turno del trofeo di eccellenza match alta allenante con Aquilani e Laziali che si sono alternati alla testa dell'incontro sono proprio questi ultimi però a fare bottino pieno con il finale di 19 a 23 nonostante la battuta d'arresto però l'Aquila riesce a conquistare un punto il primo di questa annata contrassegnata fino a questo punto solamente da sconfitte una tendenza che l'Aquila proverà ad invertire alla ripresa del campionato anche se la missione sul campo dei campioni d'Italia del Calvisano è quasi impossibile sconfitta a Perugia infine per le ragazze delle bel veneroverdi nel girone meridionale di rugby femminile 24 a 20 in casa delle donne etrusche per Perugia e per l'Avezzano in serie B con i marsicani costretti ad arrendersi 25 a 3 in casa del Colleferro Bene, con lo sport termina il nostro TG6 dell'Aquila io vi ringrazio come sempre per la cortesia e attenzione arrivederci rimanete su TV6 per la nostra consueta programmazione per la cortesia per la cortesia Grazie a tutti.